Veronica Cornolti, siamo al termine di una stagione 2011, anche per te decisamente positiva, forse ancora di più di quanto ti saresti aspettata. Ma sì, è stata molto stupenda questa stagione, non me lo sarei mai aspettata di ottenere questi grandi successi. E niente, ci è mancata una seconda vittoria, però è più che soddisfacente. Diciamo che forse l'emozione più grande è stata quella maglia azzurra portata poi all'europeo. Ma sinceramente non me lo sarei mai aspettata. Dopo gli italiani il mio allenatore mi ha comunicato che dovevo andare in ritiro con la nazionale e è stato un bellissimo momento. L'anno prossimo per te sarà il secondo anno nella categoria Juniors, è un anno in più di esperienza che è stata molto importante come abbiamo detto quest'anno. Quali saranno i tuoi obiettivi e speranze per la nuova annata? Sicuramente sarà ancora di divertirmi come quest'anno e se magari arriva qualche successo in più è più che è gradito. Ricordiamo che tu sei bergamasca ma corri per una squadra piemontese, la nuova Asti Ciclismo. Quali sono i programmi della squadra e se sono arrivati nuovi innesti di spessore allo suo interno? Ma adesso quest'anno, l'anno prossimo saremo in otto ragazze, quindi un numero più elevato rispetto a quest'anno e niente, gli obiettivi saranno come quest'anno di divertirci e di ottenere risultati. Grazie.